Sì, è così però è anche necessario. Questa riforma elettorale secondo lei si riuscirà a fare o no? Ma io non vorrei che facesse una riforma elettorale camufata, nel senso che mettono collegi unui nominali anche a doppio turno in maniera tale da poter ben dividersi destra, centro e sinistra il pacchetto complessivo e poi mettono una quota di fissi, di proporzionale fisso, cioè questi sono comunque eletti. Significa che la democrazia fa la saltare, ma siccome abbiamo menti eccellenti su questo, su come fa la saltare, è probabile che questo possa accadere. Come sempre accade, si esce dal portone e poi si rientra dal retro, come dire? Ma questo è un fatto grave, cioè voglio dire, bisogna ridare al cittadino la possibilità di utilizzare la matita come un'arma e per utilizzare la matita, come diceva Borsellino, di utilizzare la matita nella propria urna per fare la rivoluzione, per dare il segno del cambiamento e questo lo si fa con spirito libero. E questo lo si fa andando a votare perché tra l'altro la senzionismo non produce aspetti. Si fa andando a votare ma andando a votare non chi dicono loro ma chi diciamo noi, cioè scegliendo il proprio rappresentante con quale poi potersela prendere. Così come non abbiamo risposto a quella domanda di quel Facebook, di quella mail che manca, che non è arrivata. Benissimo. Posso fare un invito? Siccome io non ho più competenza in questo settore, è come se uno mi chiedesse, mi vuol parlare della situazione della miniera in Sardegna che appunto sta, è la stessa domanda, significa che ritorniamo sempre sullo stesso argomento. Perché non la girate l'email al Presidente dell'STP? Beh, sono indirizzate a lei e dovrebbe farlo lei, quindi chiaramente noi non ci arroghiamo il diritto o la responsabilità. Ma guardate, ma è di non è di mia cosa, sarebbe come se uno mi chiedesse, voglio diventare il Cavaliere della Repubblica. Allora facciamo una comunicazione di servizio, tutte le domande che ineriscono alla società dell'STP. No, che esulano dalla provincia, punto, io rispondo della provincia, punto. E quindi l'STP non rientra dalle competenze della provincia. Ma perché è là si rientra nella provincia? Non lo so, però dica lei. No, voglio sapere da voi che state da anni qua. Io posso determinare i concorsi nella Fiera di Levante? Non può decidere i concorsi, però può comunque sedendo un solo rappresentante nel CDA della Fiera di Levante si può in qualche modo dare una linea di indirizzo, non è detto che venga accettata, però un minimo di voce e capitolo ci potrebbe essere, no? Benissimo, per quanto vuoi dare i settimi? L'ho già data, ma evidentemente. Non è stata recepita. Allora dovrà fare questa battaglia in nome dei cittadini. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Prego, prego. Posso? Sì, sì, prego. Buongiorno, professore. Io vorrei un'informazione da lei. Io, adeguatamente, per essere onesto, mia moglie è caduta e si è fratturata alla gamba. Contemporaneamente, sono andati in ospedale e le hanno ingessato la gamba. Mia moglie è pensionato, prende 480 euro. È possibile che dopo un mese che sono ritornato di nuovo in ospedale con 480 euro al mese, devo pagare un ticket perché mia moglie non ha 65 anni? Così mi dice l'altro. E per tre volte? È una vergogna. A quanto monta il ticket? 480 euro al mese. Per tre volte che ci ha pagato mi hanno tolto 100 euro dalla pensione. Mi dica lei? Essere onesto, poteva anche fare una denuncia fasula come succede qua nel meridione, invece no. Per essere onesto mia moglie è caduta e così non è in regola. mi dica gentilmente come poter fare. Grazie per questa domanda. Praticamente noi ci siamo illusi tutti quanti di… Io non conosco francamente quali siano le soldi di reddito che garantiscono l'esenzione dal ticket adesso non so francamente. Ma i ticket li hanno inseriti a tutti in maniera indiscriminata. La sanità è sotto l'occhio del ciclone, ma non si danno risposte concrete. Ma è inutile che scrivete e riportate che la sanità funziona e quant'altro. La sanità funziona grazie agli operatori sanitari, ma non grazie a chi amministra questa sanità, anzi si va di male in peggio. E si vedono queste situazioni che sono situazioni assurde, incomprensibili. Non è che la signora ha chiesto di fratturarsi. Ha detto oggi mi fratturo con molto piacere, per cui pago anche il ticket. Stiamo parlando della salute, del bene prioritario, del bene essenziale che deve essere tutelato. Ci sono altre forme di ricerca, di risorse per mandare avanti un governo comunale, provinciale, o regionale o nazionale, ma non toccare la salute dei cittadini. Sì, questo è vero. È anche vero che non so come si possano recuperare le risorse che ormai pesano sul bilancio del piano di rientro. Ci sono, ci sono, ci sono. Allora, basta dire, per esempio, facciamo una moratoria per due o tre anni, non mandiamo i nostri ragazzi a fare le cosiddette missioni di pace. Per due o tre anni, come farà la Francia? La Francia a fine anno chiude. No, noi, aperti. Milioni di euro, miliardi, non milioni, scusatevi, miliardi di euro l'anno. Abbiamo dei beni immobili demaniali, abbiamo tutte le caseme da dismettere, da poter far diventare anche suoi edificatori. Abbiamo 7458 chilometri di costa, di costa che è proprietà demaniale, che noi potremmo invece dare in comodato d'uso, dare con dei protocolli, dare in convenzione, concedere ai privati, farla diventare la nostra costa, tutta la costa della nostra penisola, una movida tipo Barcellona, destagionalizzare, creare posti di lavoro. Abbiamo delle società partecipate, cito per tutti la Finmeccanica, ma anche la RAI, che ci costano miliardi di euro l'anno e ne quant'altro. Ma perché non li vendiamo? Ma perché non li diamo agli altri? Tanto, hanno comprato tutto, noi del resto andremo a risparmiare anche per quanto riguarda i beni immobili. Penso al fatto per esempio culturale, artistico del nostro paese, il primo al mondo come ricchezza patrimoniale. Noi andremo a recuperare anche quelle risorse economiche che oggi impegniamo per le ristrutturazioni o per la manutenzione anche ordinaria, oltre che straordinaria. Guardate, sono opportunità di incassi enormi. Beh, questo è vero, questo è vero. Ci mettere anche in mezzo ai tali costi della politica, che ormai è diventato il tornezzone e recupereremo diversi soldi. Ma guardate però, quelli sono da ammettere, perché non si può chiedere il sacrificio al cittadino e poi esimersi da dare prove di sacrificio a chi chiede. Quindi quello va fatto. Però non pensiate che di là si ricavi molto, eh? Beh, qualcosina però si ricava. Ma guardate, quando accadano le province, considerate che un consiglio provinciale percepisce 1.000 euro al mese, dovendo garantire la presenza nelle commissioni e nei consigli provinciali. Dico 1.000 euro al mese. Ora, eh... Beh, io parlo della politica del Governo nazionale, che chiaramente pesa sicuramente di più, non mi riferisco a certi agenti locali che... Allora, che cosa hanno fatto? Brava. Allora, cosa hanno fatto? Hanno spostato il tiro sul topolino. Hanno decentrato il problema. Hanno spostato il tiro sul topolino invece di dire che qua c'è un grosso elefante che non entra neanche in questo salone. Allora, noi siamo in chiusura di questa puntata. Sì, sì, è volata. Non mi sono arrabbiato, però voglio assicurare di dire rispetto a te che non sono arrabbiato. No, no, sei un po' infervorato, ma voglio dire, nella natura umana. No, ma neppure infervorato. È che dobbiamo risolvere i problemi insieme, dobbiamo cercare di dare delle risposte, dare certezza al futuro dei nostri ragazzi e noi gliela stiamo dando. Questa è la verità. E poi tutelare la dignità della persona, soprattutto dell'anziano, soprattutto di chi non ha la nostra fortuna. Presidente, siamo fatti di carne e ossa, che dire. Io più di carne che di ossa, per fortuna, ho purtroppo. Allora, siamo in chiusura, però ci sarà un messaggio ricorrente in queste giornate e lo voglio ricordare a tutti i nostri telespettatori, dal prossimo 24 maggio, quindi la prossima puntata che trasmetteremo con il presidente Schittulli sarà ormai figlia di un nuovo passaggio epocale, che è il passaggio dall'analogico al digitale. Il 24 maggio ci sarà il cosiddetto switch off. Ricordiamo a tutti gli utenti che dovranno risintonizzare, rieffettuare la sintonizzazione attraverso un decoder, semmai aveste già installato un decoder, quindi semmai vedeste la televisione già in digitale. I canali che vedete adesso sono tutti provvisori. Ci sarà invece poi l'assegnazione automatica delle frequenze con relativa numerazione dei canali e telebari la troverete sul numero 12, nel senso che il vostro decoder, effettuando la sintonizzazione, stabilirà automaticamente telebari sul tasto 12 del telecomando. Sarà il nostro numero portafortuna. Come i 12 apostoli. E infatti, quindi un numero portafortuna. Allora, siamo in chiusura. Ringrazio il presidente della provincia di Bari, Francesco Schittulli, per essere stato con noi. Anche i 12 assessori della provincia di Bari. Ebbene, allora è un numero davvero che porta fortuna. Va bene. 12 come i miei anni, magari. Grazie al presidente della provincia di Bari, Francesco Schittulli. Grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento torna lunedì prossimo alle 15.30. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti.